Tutto ruota intorno alle partenze di Rizzo Galano, Marilungo e Bocic. Sui primi due Rizzo e Galano, Sebastiani è stato categorico, nessun incentivo all'esodo. Il mediano aveva fermato un contratto con rinnovo automatico dopo un tot di presenze, che non sono maturate. Rizzo al pari di Galano non rientra nei piani, ma non è, come già ribadito, un obiettivo dell'Avellino, che rosa a sei centrocampisti. Tanti se consideriamo che Braglia ha cambiato modulo passando al 3-4-3, sistema di gioco che prevede l'utilizzo di due mediani. Il club irpino sta per annunciare Jacopo Murano, giocatore assai funzionale al 3-4-3 di Auteri, ma mai richiesto dalla Delfino al Perugia, così come Simeri al Bari. Matteassi vorrebbe innervare il reparto offensivo con un esterno mancino e una punta centrale, che abbia caratteristiche diverse da quelle di Ferrari, che per inciso ha segnato 8 gol, ovvero più tecnico e incline ad attaccare la profondità. Dando per scontate le uscite di Galano, Bocic e Marilungo, la prima linea sarebbe comunque folta con ben 8 elementi. Ferrari, De Marchi, Clemenza, Dursi, Rauti, Chiarella, Delle Monache e Blanuta. L'arrivo di un'altra punta porterebbe al sacrificio di De Marchi, che in Cia tanti estimatori. Nel mirino Jacopo Cernigoi, legato sino a giugno 2024 al neopromosso Seregno. Finora 5 gol in campionato, 2 in Coppa Italia per il 27enne Scuola Milan, che in Cia ha fatto bene anche nella San Benedettese. Due stagioni orsono, 11 reti all'attivo, di cui 2 in Coppa. Cernigoi è assistito da Paolo Paloni, stesso agente di Giuseppe Rizzo. A centrocampo verrà tesserato lo spagnolo Lazzcano, classe 2003, che dopo un periodo di prova sembra aver convinto Gaetano Auteri. Da valutare un altro innesto, ad oggi senza Rizzo, che però deve trovare ancora una collocazione. Il reparto è composto da 5 elementi, Pompetti, Giambo, Derisio, Mimushay e appunto Lazzcano. Servirebbe un altro centrocampista di gamba e interdizione, che tuttavia non risponde alle caratteristiche di Marcucci, classe 99, ex Roma, Imolese e Dentella, in uscita da Latina. In realtà calciatore con peculiarità sostanzialmente da regista. Torna finalmente il calciogiocato. Primo avversario del nuovo anno il Montevarchi all'Adriatico, sabato prossimo alle 14.30. Arbitro ancora di Roma, Bencazzurri privi degli squalificati Pompetti e Ijanes, previsto il debutto di Derisio. Quindi un vero e proprio tour de force, con ben 8 sfide in 28 giorni. Nel dettaglio, domenica 30 gennaio alle 14.30 Viterbese Pescara, mercoledì 2 febbraio, ore 21 Pescara Carrarese, recupero della seconda di ritorno. Domenica 6 febbraio, ore 14.30 Pescara Gubbio, lunedì 14 alle 21 Reggiana Pescara, giovedì 17 sempre alle 21 Pescara Intella, poi tre trasferte consecutive. Domenica 20 febbraio, ore 17.30 Fermana Pescara, mercoledì 23 alle 21 Vis Pesaro Pescara, recupero della terza di ritorno. Domenica 27 febbraio, ore 14.30 Modena Pescara.